Johnson & Johnson, c'è stato comunicato che verrà utilizzato sopra i 60 anni. Stamattina apro i giornali e leggo che il direttore dell'AIFA, Magrini, dice che se le dosi scarseggeranno, eventualmente rivaluteremo i limiti di età. La domanda che le faccio è dritto per dritto. Facciamo finta che abbia 40 anni, mi piacerebbe e non è così, però facciamo finta. Io ho 40 anni e oggi mi dicono che non ti possiamo vaccinare con Johnson & Johnson perché vacciniamo solo gli over 60 e io mi metto lì e aspetto di essere vaccinata con un altro vaccino. Poi fra un mesetto si accorgono che gli altri vaccini non arrivano, mi chiamano e mi dicono vieni pure che ti vacciniamo con Johnson & Johnson. Perché io mi dovrei fidare? Cioè, che tipo di comunicazione è? Allora, guardi, io credo che noi oggi dobbiamo con l'approvazione del vaccino di Johnson & Johnson ritornare a utilizzarlo e vaccinare rapidamente tutte le persone che hanno più di 60 anni mettendo da parte, lo dico, mettendo da parte i vaccini a mRNA non usarli più su chi ha più di 60 anni e rimangono da parte Pfizer e Moderna che utilizzeremo o sotto i 60 o forse in quella fascia dai 50 in giù. Semplicemente perché in quella fascia più bassa gli effetti colaterali sono sempre molto piccoli rispetto ai benefici tuttavia si è visto soprattutto nelle donne sotto i 40 anni dove evidentemente l'eventuale infezione fa meno danni rispetto a quelli che fa sugli ultra 60 anni quindi il rapporto rischio-beneficio si accorcia un po' e in quella fascia dobbiamo utilizzare i vaccini freeze. Questo secondo me è quello che si doveva fare e si dovrebbe fare già da adesso cioè destinare AstraZeneca, vaccino di AstraZeneca e Johnson & Johnson per coprire tutti gli ultra 60 anni e poi a luglio concentrarci con i vaccini freeze in hub molto grandi dove le persone sotto i 60 anni arrivano anche più velocemente e più facilmente perché un conto è portare un hub un 80enne un conto un 55enne che ci arriva con la sua macchina con il suo motorista, con la sua bicicletta o a piedi e a quel punto vaccinare Sì ma soprattutto professore magari fare una comunicazione in cui spieghiamo che te lo puoi fare Johnson & Johnson anche se non hai più di 60 anni oppure spieghiamo che non te lo puoi fare ma poi resta che non te lo puoi fare anche dopo non è che poi siccome non c'è vaccini te lo puoi fare cioè il tema è che è una comunicazione che diciamo non è brillante dal mio punto di vista Noi siamo stati secondo me siamo andati troppo dietro alla pancia e meno dietro alla testa e ai numeri gli inglesi che sono i più pragmatici forse nell'ambito della vecchia Europa sono andati dritti alla meta e questi problemi se li sono evidentemente posti perché hanno continuato a sorvegliare gli effetti collaterali ma sono andati dritti alla meta noi ci siamo fatti un po' troppo interrompere e ogni volta che interrompiamo un vaccino sono migliaia di persone che muoiono non dimentichiamocelo questo Allora saluto Luigi De Magistris Grazie a tutti